Molti di voi hanno problemi con la qualità della comunicazione delle ragazze in chat. Rispondono spesso a monosillabi, non sono affatto coinvolgenti, non hanno una comunicazione intrisa di emozioni, non alimentano il dialogo, non sono affatto stimolanti. Bene, cosa fare quando una donna esprime un basso livello di comunicazione? Abbandoni la conversazione. Sì, esatto, hai capito bene. Prendi e te ne vai. Ossia ad un suo messaggio non rispondi più. Ti faccio un esempio di cosa è successo con la mia ragazza qualche settimana fa. Era da giorni che esprimeva un livello di comunicazione scadente, poco coinvolgente e costruttivo, al che ad un certo momento mi sono rotto le palle di chattare da solo e ho smesso di risponderle. Basta! Christian non scrive solo perché hai due belle bocce e il bel faccino, esige di più. Qui sotto vedi anche l'esempio di come ho gestito il caso specifico. Mi trovavo a Bell Park, in Trentino. Stavo guardando gli animali selvatici e le stavo inviando dei video. I messaggi sono in inglese perché la mia ragazza non è italiana. Mi risponde a monosillabi e, di conseguenza, io smetto di rispondere perché non sono stimolato. Prontamente mi scrive prima di andare a dormire. Sintomo che il mio atteggiamento di silenzio ha creato instabilità. Le donne sono molto grave a non farsi dare per scontate. Impara a farlo anche tu.